nella fattispecie di Harry, Harry se le è messe perché boh perché condividiamo la passione per i vestiti per le cose come è nata la vostra amicizia? beh ci siamo incontrati su un set io e lui così nel senso siamo andati a lavorare insieme in un set ci scrivevamo via sms ed eravamo un po' amici diciamo di penna come Charlie Brown poi un giorno ci siamo è nato attraverso il lavoro e credo che ci siamo un po' scelti così di pancia perché lui ha iniziato a vestirsi con le cose quando è nato diciamo io sono nato ufficialmente per il mondo intero alla guida di Gucci lui ha cominciato a mettersi le cose che io facevo io non sapevo molto di lui devo dire poi non so come ci siamo incontrati a Londra abbiamo fatto una colazione insieme e vi siete riconosciuti in qualche modo sì lui è venuto con questa pelliccia stupenda sintetica ci tengo a dirlo ed era splendido e mi ricordo ancora che la prima volta che ci siamo incontrati e che appunto per me era incontrare un ragazzo giovanissimo perché sono molto più grande di lui sapevo che cosa facesse ma non avevo in mente precisamente non vivendo quel momento lì eravamo nel mio solito salotto dove sono solito in questo albergo di Londra fare alcune colazioni di lavoro o incontrare delle persone e io siccome c'era molto rumore sotto questa finestra dove di solito c'è grande silenzio e io mi sono affacciato gli ho detto non so forse c'è un forse c'è uno sciopero o qualcosa del genere ma erano tutte per lui invece erano gli fan pazzi io ho detto non so che succede dico però c'è qualcosa dico mi dispiace perché c'è tantissimo rumore e di solito sono qui per il silenzio e lui un po' in imbarazzo mi ha detto no non so forse sono venute dietro di me praticamente quindi lì ho capito che per questi ragazzi aveva un grande senso diciamo essere vicino a lui e poi iniziamo dopo abbiamo fatto un set insieme di una campagna